ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video e sì se mi vedete con questa faccia perché c'è ancora sonno la primavera mi stanca vabbè comunque da come avete potuto leggere dal titolo questo è un video in cui voglio raccontare una cosa in particolare che mi è successa non so se tre o quattro anni fa allora praticamente dovete sapere no voi sapete no che a scuola ero vittima di bullismo tutto però nonostante tutto io ci tenevo comunque ad avere dei rapporti con tutti quanti dopo che uno è uscito perché gli ultimi giorni di scuola loro mi rispettavano e quindi pure io in un certo senso mi sono sentita in dovere cioè non in dovere nel senso che per forza però pure io mi sono comportata di conseguenza allora dopo che sono diciamo uscita dalla scuola io ho cominciato diciamo ad avere dei legami con tutti quanti io scrivevo loro mi rispondevano in maniera gentile dopo un po all'improvviso tutti insieme hanno smesso di rispondermi ma senza motivo cioè non è che io avessi fatto qualcosa allora niente e giustamente io dopo più volte che ho provato a dire ma è successo qualcosa perché giustamente una qualunque persona se se io mettiamo mi comporto male tra virgolette faccio qualcosa di male giustamente un amico te lo dovrebbe dire nel momento in cui tu gli chiedi spiegazioni ma che t'ho fatto invece loro niente proprio indifferenza più totale allora io per non soffrire diciamo così ho deciso di bloccarli dal mio profilo dopo un po di tempo un po di nostalgia ho deciso di contattare uno di loro però sotto un altro nome perché nel mio vero profilo li avevo bloccati quello capendo che ero io mi ha detto che la dovevo finire cioè dopo due tre anni che uno non si fa sentire cioè non mi merito neanche uno ciao come stai sei viva sei morta cose fatte vabbè e allora io giustamente perché dovessi sapere che questo ragazzo era un ragazzo che piaceva molto a scherzare giustamente anche perché io per scherzare ho detto ciao bel bimbo ma per scherzare per carità no allora io gli ho detto qualcosa del tipo e ma dove è finito quel ragazzo che piaceva scherzare che una volta in classe mi dice non mi guardare che divento rosso allora lui praticamente mi ha un certo senso poi chiarendo la cosa in privato con lui mi ha detto mi ha detto è però io qua ci lavoro per quello che hai fatto tu rischi la denuncia perché soltanto perché mi sono permessa di ricordarle una cosa che lui aveva detto però anche ammesso che mi fosse inventata tutto cioè essere messa al livello di una criminale mi ha fatto sentire un mostro e adesso non mi sento più tanto un mostro perché mi sono resa conto che persone spreggevoli erano adesso perché ho fatto questo video perché io proprio ieri stavo guardando un video sul bullismo in cui tutta la classe stava contro una persona sola questa persona cioè questo ragazzo si è sentito totalmente sbagliato perché si è trovato tutti contro che si è tolto la vita cioè questo per dire che certe persone sono talmente brave e perfide che vi fanno sentire che siete voi nel torto anche perché dire è una persona oltretutto uno che ama gli scherzi se non è una persona seria c'ho bel bimbo ma per scherzare ovviamente essere trattata come se fossi una criminale cioè proprio no e io ci sono stata male per un sacco di tempo e proprio ieri sempre ieri mi è capitato che il mio profilo mi aveva proprio ricordato quello che era successo quindi in realtà avevo proprio rimosso questa cosa però mi è stato ricordato e comunque sono felicissima di esserne uscita da quella situazione perché mi sono resa conto che le persone non cambiano anzi nei momenti in cui ti sembra a te che cambiano è peggio perché stanno si stanno in un certo senso come renderti buona cioè nel senso che loro hanno finto di essermi amici verso la fine soltanto per farmi più male poi quindi ragazzi consiglio che vi do se siete vittime di bullismo se vedete che i vostri bulli all'improvviso diventano buoni con voi non ci cascate perché io per esserci cascata poi mi sono ritrovata a peggio per oggi è tutto e arrivederci al prossimo video